E' partito! E' partito il nuovo canale! Calcio, una grande passione! Iniziamo col botto, le grandi rivalità di calcio, ho parlato del derby della Ruhr, il grande derby tedesco fra Schalke 04 e Borussia Dortmund, ma il primo, dopo parleremo del Millwall con West Ham, Inter Juventus, non dimentichiamocelo, il classico Real Madrid Barcellona e tanti altri ovviamente, Stella Rossa partizza di Belgrano, il derby eterno, ragazzi, se vi piacciono queste storie, le storie del calcio, calcio, una grande passione, questo è il canale che fa per voi, lo trovate in descrizione, trovate in descrizione, andate a iscrivervi, siete tutti invitati, gli studios, gli studios, incomincia a fare questi, diciamo, questi video degli studios, ci sarà anche la sessione estiva con le terrazze, vediamo se ci sono anche compagnie, insomma, ci sarà di tutto, ragazzi, ci sarà di tutto, e oltretutto questo, 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 Diego CTN è il canale di calcio YouTube più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, io ve l'avevo detto, il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo è questo qua, quindi iscrivetevi se non siete già iscritti a questo, ma iscrivetevi a tutti i canali, ragazzi, a tutti i canali, lo sport, il tennis, ogni giorno tennis, parliamo, parliamo appunto, di quello che fanno i ragazzi in giro per il mondo, gli amici tennisti, alcuni li conosco, alcuni davvero li conosco, detto questo, ragazzi, calcio è una grande passione, questo è il canale per voi, iniziamo col derby della RUR, ma la prossima, il prossimo dovrebbe essere quello del derby eterno, quello di Belgrado, i militari contro i polizioni, no, no, una cosa spettacolosa, guardate, il calcio, voi non avete idea, il calcio è passione, passione, quante passioni, quante cose, quante storie dà il calcio, perché fatto di passioni, oggi, in questo momento, ci si unisce, ci si riunisce in tantissimi posti, perché ci si va a fare questa squadra, quest'altra squadra, quell'altra ancora, c'è chi va allo stadio, stasera c'è la Roma e quindi i romanisti andranno allo stadio, ma ci vanno anche quelli, insomma, la storia del calcio, c'è una storia di movimento, è una storia che non finisce mai, se vi piace, calcio, una grande passione, questo è il canale per voi, ragazzi, davvero, questo è il canale per voi, sono contento, sono davvero, mi si è spento, ragazzi, sono in pieno, non avete idea, non avete idea di quello che sto facendo, io ho fredda, adesso devo andare in mille posti, però un po' di attrezzature, e finalmente, diciamo, le ho messe su, le ho messe su io, 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 le luci, l'ho studiato come mettere questo, come mettere quell'altro, e ne vedrete delle belle, ne vedrete davvero delle belle, però una cosa ve la voglio fare vedere, ve la faccio vedere? Ve la faccio vedere? Aspetta, aspetta, togliamo, io quanto sono affezionato a questo qua, vediamo se si vede bene, ragazzi, non so se si vede bene, ma quanto sono affezionato a questo, tutto il tempo che abbiamo passato insieme, tutto il tempo che abbiamo passato insieme, insomma, allora, se vi piace, ragazzi, andate là, da quelle parti lì, e ci ritroviamo a parlare della storia del calcio, è bello, il calcio è un movimento, a me il calcio piace, il calcio piace, ho iniziato con questo qua, il derby della Rur, e quindi l'ho dovuto studiare, è un derby particolare, però non vi rubo la sorpresa, non ve la tolgo la sorpresa, è ovvio che se volete andarla a vedere, andate a vedere, in descrizione, cliccate in descrizione, e dopo di che andate sul canale, vi iscrivete, e niente, ragazzi, quello sarà un canalone di quelli belli belli belli, sono contento, sono contento perché finalmente ho messo a posto, questo è uno degli studi, dopo ci sono gli altri, che ancora devo fare, però, io devo andare, devo andare a comprare un sacco di cose, devo andare a comprare un sacco di cose, dopo stasera c'è pure la partita, c'è pure la Roma, ce la vediamo insieme, faremo sicuramente il posto partita, che volete che vi dica, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, ragazzi, e siamo insieme, siamo insieme fino all'ultimo, però, allora, a che siamo qua, a che siamo qua, seriamente, i canali che sto portando avanti, a chi interessa, non interessa, però adesso, al 2, al 3 gennaio, i canali che sto portando avanti sono Diego CTN, questo, e voi ogni mattina avete il buongiorno, non vi manca mai un video mio, cioè i miei video sono sempre là, la mattina c'è sempre, quindi alle 9 avete il video fresco che parla di quello che è successo il giorno prima. Adesso è partito Tennis Live Tour, è il canale di tennis, questo canale di tennis è particolare, perché ogni giorno io parlo di quello che stanno facendo, di quali sono i tornei, che stanno facendo i nostri ragazzi nei tornei, e in più metto ovviamente, metterò molti video su quello che è, come funziona il tennis, come funziona la vita del tennista praticamente. Abbiamo Diego CTN Sport, dove parlo di sport, anche quello è un bello importante, perché effettivamente se vi piacciono gli sport, atletica, sci, muoto, e tutto quello che ha, le Olimpiadi che si avvicinano, insomma, ovviamente se vi piace lo sport. Quiz per te, che finalmente questo quiz per te dovrebbe arrivare a fare qualche cosa, cioè sta arrivando a essere monetizzato in poco tempo, in meno di un anno, è una bella soddisfazione, è partito da niente con dei ragazzi, insomma, sono contento per quello. C'è un interior design, questa è un'altra storia, interior design, per quello è tutta una prova, non so fino a quanto resta e quanto ci resterà, ne ho talmente tanti, che sto andando a guardare quali sono gli altri, se me ne sto dimenticando qualcuno, se me ne sto dimenticando qualcuno, no, dopo c'ho quello inglese, il quiz trivia, ma non so se me lo lascio quello là, e i social media, ma i social media troppo tempo, mi, cioè sarebbe troppo, troppo tempo, troppo, spendere troppo tempo su quello. Quindi quelli che sicuramente rimangono sono Tennis Live Tour, quello rimane, rimarrà quiz per te, quello rimane, rimane, idea interior design AI, perché è fatto tutto dall'intelligenza artificiale e sta, non so perché, ma è visto molto nei paesi, come i paesi dell'India, della zona lì, insomma, va bene, va bene, va bene, se eventualmente lo voglio vedere, dico CTN Sport, che ormai lo conoscete, calcio, una grande passione, e dopo questo, e dopo questo che è il canale, che vuoi dire, questo canale io sono affezionato, sono affezionato e adesso si fa sul serio, stavo, aspetta, anzi, ragazzi, io aspetto sempre che mi date qualche consiglio, se avete un consiglio, su qualche argomento particolare di cui voi dite, guarda che su quell'argomento non sono molti a parlarne, allora se eventualmente volete darmi un consiglio e dire, Diego, perché non parli di questo, mi avete detto di parlare manga, anime, sì, però quello io non sono forte, cioè dovrei andare a rivedere tutto, ma ci sono gente che è molto più forte di me a parlare di quelle cose, e quindi mi è difficile, è anche vero che io non faccio interior design, però il problema è che io con l'intelligenza artificiale ti aiuti, lasci fare l'intelligenza artificiale e vediamo che ne esce fuori, insomma, sono tutte queste situazioni, ma se voi avete un argomento, voi mi dite, Diego, ma questo argomento perché non lo tratti, perché non parli di questo, perché non parli di quello, sì, sarei contento, ovviamente non so cosa vorreste da me, molti di voi mi domandano, ma che fine ha fatto quello là che facevi, che fine ha fatto, ma che come ve lo posso, io non ve lo posso spiegare, non ve lo posso spiegare, perché io non faccio il pronosticone per semplicemente, perché ci sono dei decreti, certe, che non si, in teoria non si può parlare di scommesse, molti non lo sanno, quindi andare a essere, a trovarsi nei problemi, che non voglio trovarmi, problemi per nulla, allora, però questo calcio è una grande passione, ragazzi, se vi piace il calcio, le storie, le storie pure anche quelle belle dure, dopo le racconterò, perché ci sono storie dietro il calcio che voi non avete idea, il calcio è un movimento di passione, e la passione fa fare tante cose, fa fare tante cose belle e non belle, però ne parleremo, ne parleremo, ragazzi, detto questa iscrizione, se non siete iscritti, ma perché ve lo dico a fare, iscrivetevi a tutti e a tutti i canali, ciao ragazzi, e ancora non lo sapete, la grafica, sta cambiando anche la grafica, vedrete, vedrete, ragazzi, ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao ciao.